Buongiorno a tutti, buon sabato 6 aprile, bentrovati. Prima considerazione difficile andare avanti in questo mondo, in questi social che non hanno nessun tipo di regolamentazione in cui veramente c'è un odio veramente senza fine, in cui la mattina la gente si alza e decide, sceglie oggi attacco, oggi chi voglio massacrare, tra virgolette, anche senza virgolette, e poi si mettono d'accordo, iniziano a prendere di mira qualcuno, senza nessun tipo di regolamentazione e con conseguenze gravissime che devono poi sopportare quelli che vengono i bersagli di tutto questo schifo che si realizza su determinate piattaforme, soprattutto su X, ma non solo, perché anche qua abbiamo avuto degli esempi. Addirittura ieri, sempre poi da una solita parte, stranamente, soliti noti che comunque non vengono mai sanzionati, che devi fare 200.000 segnalazioni, reclami e queste piattaforme che non hanno mai, o non ti rispondono, o non considerano mai gravi minacce di tutti i generi, offese inenarrabili, e non sospendono, non bloccano mai determinati tipi di attacchi, ti fa venire veramente anche, ti fa perdere la voglia di portare avanti questo discorso sull'educazione, rispetto all'informazione che portiamo avanti da anni e che sapete molto bene. Addirittura si augurano, perché infastiditi dal modo di parlare del collega Corazzi di Cronache di Spogliatoio, che sarebbe simile al mio, viene scritto addirittura, gente che ti fa venire voglia di replicare American Psycho appena li senti parlare, mi fanno scattare qualcosa in testa. Questo è il post a cui poi replica un altro utente, molto conosciuto per una serie di commenti simili, che dice Ma non c'è qualche mitomane, si chiede, in vita, che vuole replicare Charlie Hebdo? Cioè, ma vi rendete conto? E nessuno interviene, nessuno fa nulla, anche tutte queste situazioni, poi Charlie Hebdo, per chi non se lo ricorda, tristemente famoso per l'attentato terroristico ricevuto il 7 gennaio 2015, sede di un giornale satirico che venne attaccato con 12 persone assassinate, 11 ferite, cioè qui c'è gente che invoca addirittura qualcuno in grado di fare una cosa del genere e non vengono sanzionati, non vengono perseguiti, non si sa chi sono, non si fa assolutamente nulla, nessun tipo poi di solidarietà a chi viene attaccato in continuazione da questi personaggi, nessun tipo di regolamentazione sui social, nessun tipo anche di potere anche alla polizia postale che di solito si trova senza la possibilità di intervenire contro queste piattaforme straniere che permettono e consentono spesso di tutto e di più senza nessun tipo di possibilità anche per l'utente bersaglio di queste cose di poter avere una difesa, di poter avere un blocco di questi contenuti, una cosa abberrante che capite insomma come possa anche sconvolgere la gente di chi non ha la forza di andare avanti, metterla veramente in situazioni molto difficili anche perché poi questi si mettono d'accordo, sono sempre gli stessi gli obiettivi, continuano e ieri riprendevano il mio video di ieri e quando dici alcune cose in tv e quando dici o scrivi altro senza senza fine, senza nessuna possibilità di contrastare e capite insomma quanto sia dura e difficile perché poi uno dice ma chi me lo fa fare? Però dobbiamo chinare la testa e lasciare campo a questo schifo, a questa gente o ci dobbiamo ribellare, fare qualcosa anche di concreto per avere delle regolamentazioni, per avere un minimo di legge che appunto prescriva che chi si iscrive a qualsiasi tipo di piattaforma debba avere un nome, un cognome, un documento e sia responsabile di queste cose abberranti che leggiamo tutti i giorni che attaccano sempre qualcuno a seconda di come si svegliano. Vi lascio tanta tanta delusione, tanta fatica ma anche questo materiale per discutere cercando insieme magari di cambiare un minimo questa situazione che sta diventando ogni giorno sempre più difficile e ingestibile. Scusate lo sfogo ma in una situazione del genere veramente si fa fatica ad andare avanti e le conseguenze sono poi anche sulla salute, sul piano personale non facili, non facili anche se poi alla fine stiamo parlando di calcio, stiamo parlando di sport, qualcosa che dovrebbe proporre dei valori positivi, qualcosa che vorrebbe essere un modo per stare insieme e cercare di rendere più bella questa vita però ci sono queste purtroppo queste persone con tanto odio, tanto livore che soprattutto dopo la pandemia trovano lo sfogatoio personale nei social e un modo per colpire gli altri facendola sempre franca e speriamo che invece possano esserci presto anche delle dure regole che chi le viola poi deve subirne tutte le conseguenze girando pagina siamo a due giorni dal ritorno in campo nel posticipo di Udine partita difficile storicamente ma soprattutto adesso che la squadra di Cioffi cerca una salvezza una salvezza difficile, una salvezza molto combattuta con tante squadre lì in pochissimi punti che si giocheranno tutto nelle ultime otto giornate, avete visto ieri sera il Sassuolo stava vincendo 2-0 ma la Salernitana che ha già praticamente un piede e mezzo in serie B è riuscita a pareggiare a dimostrazione che non mollano mai nessuna squadra fino all'ultimo e che darà ancora più pepe alla sfida di lunedì sera sapendo già tutti i risultati anche quello che farà oggi pomeriggio il Milan alle 15 un'altra situazione da seguire con il derby di Roma alle 18 anche lì Milan contro il Lecce e poi domani sera invece Juventus Fiorentina la partita di cartello del posticipo problema Bastoni ed è abbastanza grosso nel senso che tre assist nelle ultime tre partite Bastoni è uno dei protagonisti di questa cavalcata trionfale con la sua doppia fase difensiva e propulsiva che ne fa uno dei dei giocatori penso più forti al mondo in quella posizione come anche spesso l'aveva sottolineato Guardiola che lo apprezza tantissimo e che già in passato aveva provato a portarselo in Inghilterra un problema ai flessori che credo comunque anche se dovesse partire poi domani insieme alla squadra per Udine non lo farà scendere in campo dal primo minuto comunque vedremo quelle che saranno le prossime sedute di allenamento chi ha il suo posto Carlos Augusto che ha fatto molto bene nel ruolo di Braccetto e che ha recuperato dalla settimana scorsa o anche potrebbe giocare un Bissek che in zaghi dicono che stia provando spesso anche a sinistra dove giocava originariamente anche nel campionato danese nella nazionale under 21 tedesca interessante anche questa possibilità di schierare Bissek sia a destra che a sinistra lo zio Bergomi addirittura suggeriva di impostarlo come centrale del futuro perché appunto è giovane può imparare benissimo e andare poi a ricoprire quel ruolo che tra un po' a Cerbi 36 ed Evrai 32 lasceranno sguarnito quindi un Bissek che si conferma gran colpo di mercato adesso vale già una ventina di milioni dopo averne spesi 7 per la clausola per portarlo a Milano quindi questo piccolo inconveniente però un'assenza pesante per il contributo soprattutto che ultimamente ma ha sempre dato bastoni ma soprattutto che fornisce quando è in condizione altro dubbio di formazione a destra dove Dumfries dovrebbe essere preferito stavolta ad Armiano anche perché è entrato molto bene con l'Empoli facendo subito l'assist per il gol che ha chiuso la partita di Alexis Sanchez poi formazione tipo quindi la ricordiamo Sommer mettiamoci Pavard Acerbi e Carlos Augusto di Marco e Dumfries sugli esterni centrocampo tipo con Cialanoglu, Barella e Mkhitaryan, Lautaro Turam sperando che entrambi riescano a sbloccarsi e a fare una partita che zittisca anche tutte le voci che ultimamente ne mettono in dubbio, in discussione, una stagione straordinaria e ormai abbiamo capito il gioco che fanno certi detrattori seriali anche mettere in discussione il campionato di Lautaro 23 gol anche se ha questa flessione che è un po' sempre stata uno dei suoi talloni da kill avere quel periodo che spesso è stato anche più o meno primaverile in passato di astinenza, di difficoltà a segnare, di fatica perché tirando la carretta per tutta la stagione è normale che arrivi a marzo-aprile gli ultimi due o tre mesi che sei stanco, che hai dato tutto che hai giocato sempre, che sei rimasto quasi sempre in campo crescendo dal punto di vista del gioco della leadership, dei gol, dei numeri, un minimo di appannamento ci sta anche se questi detrattori dimenticano che è tornato al gol dopo un anno e mezzo con la sua nazionale in questo periodo e questo per lui penso sia sicuramente un fattore pesantissimo per anche sbloccare testa e gambe ma non credo che abbia nessun tipo di problema se li inventano a tutto sport ed intorni che anche oggi mi sembra che abbiano fatto un articolo su di lui quindi Lautaro non segnala il 28 di febbraio, Turam dal 16 e sento anche qui mettere in discussione il francese dopo un'annata straordinaria già in doppia cifra con 7 assist, 2 autogol procurati, 2-3 rigori quindi un contributo importante ma come abbiamo sottolineato anche criticando chi gli ha dato un 5 in pagella nell'ultima partita con l'Empoli è il giocatore secondo me perfetto per il gioco di Inzaghi per come dà profondità, fisicità ma anche appunto sgasate, accelerazioni saltando l'uomo e creando spazio per i compagni, assist ma facendosi spesso trovare anche pronto in zona goal dove è cresciuto tantissimo rispetto anche al passato cosa che ha sottolineato anche il CT francese Deschamps che naturalmente lo tiene in grande considerazione per gli europei dove però deve cercare di fare un salto di qualità ancora ulteriore in questo finale di stagione per confermare tutti i suoi miglioramenti appunto per zittire critici vari un Inter che già lavora al futuro abbiamo detto ieri ci siamo dimenticati di prima mattina di fargli gli auguri a Simone Inzaghi che poi abbiamo fatto personalmente per i suoi 48 anni festeggiato da piano da giocatori, dirigenti e da tutto il suo staff premiato anche per le 150 panchine con 100 vittorie e una percentuale del 67% di successi superiore a tutti gli altri allenatori con almeno 100 panchine in Serie A questo mi fa capire anche la sua crescita ma anche qui abbiamo dei trattori anche su Simone Inzaghi che abbiamo ripeso fin dall'inizio anche quando ha fatto degli errori ma come li fanno tutti come hanno bisogno tutti come ricorda sempre Capitan Zanetti dalle sconfitte che nascono le grandi vittorie dalle sconfitte che si impara a vincere e che si diventa più forti e così ha fatto anche Inzaghi nel suo periodo all'Inter contrassegnato da vittorie importanti come le Coppe Italia, le tre Supercoppe e aspettando quattro Supercoppe adesso sto facendo un po' di confusione vittorie importantissime ma si diceva, cosa si diceva sempre di Inzaghi è però non è due Coppe Italia e tre Supercoppe ok per essere precisi abbiamo detto bene abbiamo appunto sottolineato il fatto che le critiche a lui fossero sempre quelle incentrate sulle sue difficoltà nel gestire il campionato come aveva perso due anni fa l'anno scorso c'è stata quella partenza falsa gli infortuni subito inizio stagione di Lukaku e Brozovic e una squadra che soprattutto non aveva azzeccato la preparazione e le prime giornate quasi si faceva fatica a muovere in campo proprio a Udine arrivò a una delle sconfitte peggiori dove si andrà lunedì sera però poi una stagione completamente trasformata con quella bellissima impresa di arrivare fino alla fine in Champions League alla finale di Istanbul che ha cambiato qualsiasi tipo di discorso ma solo un anno fa proprio di questi tempi se ne chiedeva in tanti non noi che l'abbiamo sempre difeso vi abbiamo sempre consigliato calma e anche di avere pazienza per aspettare il finale per fare i bilanci giusti a quello che è stato a quello che sarà a quello che ci aspettiamo si diceva che non è allenatore da corse a tappe adesso però doveva far meglio a Madrid come se tutti quegli errori davanti al portiere nella partita di andata soprattutto ma anche al ritorno fossero stati colpa sua è chiaro però che quando perdi poi la responsabilità stava suddivisa si poteva fare dei cambi diversi la sfortuna con gli infortuni di Carlos Augusto e soprattutto Arnautovic che ti ha costretto a modificare le rotazioni magari Biocan fosse entrato con la sua velocità avrebbe fatto meglio io addirittura provocatoriamente avevo detto avrei messo Bissek a fare la seconda punta per sfruttare i suoi centimetri e tenere qualche pallone in più spizzarlo di testa e quant'altro ma tutte comunque osservazioni critiche che lasciano il tempo che trovano se poi sbagli tutte quelle occasioni come la partita di andata e non solo l'Arnautovic perché anche Lautaro ebbe un sacco di possibilità per fare gol e poi la Champions non perdona i dettagli fanno la differenza la fortuna che un anno fa invece ti aveva sorriso soprattutto a Porto in quel finale concitato con una resistenza strenue dell'Inter era andata bene quest'anno è andata così però non toglie che hai già vinto una supercoppa e c'è questa cavalcata incredibile in campionato a cui mancano otto partite undici punti da conquistare e vedremo se si scenderà ancora sotto per arrivare a quel derby del 22 aprile che può essere quello dello scudetto che può arrivare dopo può arrivare prima difficilmente adesso però ci sarà anche il Milan che deve pensare alla doppia sfida di Europa League con la Roma quindi anche distribuire le sue energie con le squadre che abbiamo visto non mollano mai soprattutto quelle implicate nella lotta per la salvezza compleanno di Inzaghi a cui facciamo anche se in ritardo gli auguri con i regali che dovrebbero arrivare piano piano abbiamo detto che si sta andando in una certa direzione come sottolineiamo da anni ormai e che c'è questa trattativa che va avanti abbiamo letto la gazzetta ieri e ribadito anche dal nostro amico del sole 24 ore Carlo Festa che ieri ha sottolineato anche lui come già anticipato dal sole 24 ore 10 giorni fa negli ambienti finanziari circola l'ipotesi che OCTRI prolungherà per breve tempo l'accordo con Zhang in modo da dargli più tempo e la possibilità di trovare un'alternativa un compratore o un rifinanziatore e vedremo poi anche lì quello che succederà ormai manca mancano veramente neanche al 20 di maggio quanti giorni bisognerebbe fare il calcolo ma manca veramente neanche 50 giorni e sapremo il tutto un progetto che va avanti e che dovrebbe appunto trovare nel regalo perfetto per Inzaghi l'abbiamo detto nelle settimane passate un rinnovo fino al 2027 per farne uno dei tecnici più longevi della storia dell'Inter che però si aspetta anche altri regali e quindi dei rinforzi sul mercato abbiamo parlato di Gudmundson che sarebbe il complemento perfetto per l'attacco che però costa una trentina di milioni che l'Inter deve essere sostenibile quindi trovare i modi per arrivare a soddisfare le richieste del Genoa cercando un'ipotesi di trasferimento alla frattesi con prestito oneroso e obbligo di riscatto tra un anno quando i conti saranno ancora migliori come si è fatto appunto nel recente passato trovando delle pedine di scambio che possono abbassarne la richiesta del Genoa e abbiamo detto più esposito Satriano Zanotti ci sono un sacco di giovani forti dell'Inter che ci piacerebbe anche vedere maglia nera azzurra e che quindi speriamo che non se ne perda il controllo come su Carboni che sta crescendo tantissimo è una valutazione sempre più alta più un rinforzo per l'attacco insieme a Taremi e Zilinski già firmati più un vice Sommer però chiaramente non credo che si vada a spendere più di 20 milioni subito in questa stagione e anche qui vedremo le richieste dell'Atletico Paranaense per Bento un esterno destro se Dunfris verrà sacrificato proprio per far cassa e rinforzare la squadra questo dovrebbe essere un po' un difensore centrale che inizia a ringiovanire il reparto situazione ermoso proposto da un intermediario scadenza di contatto con l'Atletico Madrid da tenere sotto controllo leggendo anche i giornali di oggi troviamo su Tutto Sport sempre la notizia di questo esposto di questa fondazione juventina che metterebbe in dubbio i requisiti di iscrizione al campionato dell'Inter che ricordiamo requisiti e bilancio certificato da Price Waterhouse Coopers che è soltanto la seconda società al mondo di revisione contabile che fattura 43 miliardi di dollari opera in 160 paesi quindi già capite quello che mettono in discussione parlando di una continuità aziendale che non sarebbe garantita da Suning che forse non hanno visto il fatturato di Suning e dalle controllanti che sono state appunto create per gestire la particolare situazione economica attuale con il revisore legale che a suo tempo affermò che la relazione sulla gestione è coerente col bilancio consolidato ed è redatta in conformità alle norme di legge quindi direi che si commentano da sole queste illazioni e ricordiamo come la continuità aziendale si è assicurata sia dalle risorse finanziarie disponibili che dalle risorse dell'azionista di riferimento e tutto poi viene sempre invagliato dal UEFA che se ci fossero delle problematiche come abbiamo visto per altri club non ha problemi a mettere il tutto sotto la lente di ingrandimento invece ha sempre dato il suo ok per quanto riguarda alle questioni di casa Inter un po' di vostri messaggi ora per chiudere la pagina quotidiana sperando di che appunto si prendano dei provvedimenti per per evitare tutto questo odio queste minacce queste cose veramente vergognose che siamo costretti a sentire ogni giorno e ci arrivano e ci arrivano tutti i giorni tantissimi auguri da Marilena Inzaghi Adanico invece dice si rivolge a quelli che ancora hanno paura di perdere lo scudetto con 14 punti di vantaggio 8 giornate al termine ma se ne avessimo avuti la metà cosa facevate chiede Adanico tanti amici interisti i presidenti che spendono tanto amici interisti i presidenti che spendono sono pochissimi dice interista e basta e Zang comunque ha speso a questo punto meglio la riconoscenza al presidente che ha un fondo che speculerà con l'Inter se rimane sono contento auguri al demone di Piacenza anche da Maurizio Bosco grande Zang Flavio ci hai dato grandi soddisfazioni hai creato una grande società con grandissime difficoltà grazie ancora grazie i saluti da Roberto Stomaci a tutti voi Joseph Mega dice sarebbe importantissimo in questo momento che Zang possa rimanere al comando della società con l'attuale management per dare continuità a un progetto che sta portando tantissime soddisfazioni negli ultimi anni Giovanni Barbetta auguri a Mister Inzali Paghi sottovalutato Mister coi fiocchi persona per bene mai una parola fuori le righe sempre in sintonia con i vertici della società un merito e sappiamo il perché solo meriti certo avendo sangue nerazzurro tutti noi vogliamo la squadra top lo meritiamo non dimentichiamo Roberto Romeo che se siamo a questo punto lo dobbiamo al nostro presidente Zang Salvatore San Marzano avanti con Zang il piano di risanamento va avanti la nostra competitività in campo internazionale internazionale a mio avviso la situazione non può che migliorare i nostri dirigenti sanno ormai come affrontare il mercato sembra che le cose si mettano al meglio lo sconosciuto nel frattempo portiamo a casa lo scudetto tanti auguri al Mister Poi salutiamo Nonna Novella uomo serio unico nel suo genere in Zaghi ancora auguri che noi aspettare fino a lunedì per giocare Luca Clerici pensiamo solo a noi che essendo in testa con largo maggiore dobbiamo vincere le nostre partite senza guardarci indietro questi un po' di commenti generali salutiamo Anthony Larita User EJ e tutti voi che siete sempre presenti altri commenti prima dei saluti vediamo un po' cosa abbiamo quelli con più like che leggiamo come al solito come regalo tre punti a Udine per Mister in Zaghi e anche qualcosina dal mercato non sarebbe male Matteo Merli Luca 89 anche lui fa gli auguri a Simone in Zaghi Paolone buon genetliaco immenso Simone in Zaghi il resto non conta ogni volta che l'Inter è interessato a un giocatore importante la richiesta è 40 milioni agli altri non chiedono queste cifre vedremo poi come e che cosa accadrà ci tocca lottare contro tutto e tutti Enzo Barbetta e direi che è sempre così basta vedere anche oggi considerazioni abberranti Fiorenzo sui nostri calciatori ultra trentenni credo che dovremmo ringraziarli per l'ottimo lavoro svolto fino ad ora sento dire che serve una rifondazione quando hai una stagione così incredibile rifondazione quando sei arrivato a questo punto saluto anche Giuseppe Delfino e tutti voi abbiamo detto titoli dei giornali che sottolineano questa giornata di campionato che sarà decisiva la gazzetta un Tiago Motta che piace alla Juve che si allontana da Allegri e al Manchester United ci sta pensando un Inter che prepara i regali a Inzaghi questa sulla gazzetta dello sport e poi la partita di Udine col dubbio bastoni Augusto Bissec mentre i regali per Inzaghi come vi dicevamo Scudetto Rinnovo Hermoso e Gudmundson Simone Scartagia la nuova Inter con la conferma che dovrebbe esserci anche una tournée a fine luglio proprio in Cina a dimostrazione del progetto che continua Corriere dello sport incentrato sul derby di Roma di oggi pomeriggio il piano segreto della Juve firmato da Elkan per migliorare i conti andare avanti e tornare a vincere poi tutto sport ne abbiamo già parlato non serve dire altro buona sabato e buona giornata a tutti